Il trial si fa donna. Saranno 10 le nazioni in gara a San Pietro Mussolino. La moto tutta al femminile vedrà protagoniste 22 pilote che si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo V-Trial 2022. Questo sport non è relegato solamente a una passione maschile, ma vedete che c'è un impegno e una costanza anche di tante donne che si sono avvicinate a questo mondo e che lo stanno portando avanti con una certa tenacia e con protagonismo. Queste manifestazioni sono molto importanti per i nostri territori, per la nostra provincia. Le persone, oltre agli atleti, alle famiglie, agli appassionati, attirano molte e molte persone che spendono nella nostra provincia. Quindi le due ruote devono essere viste anche come un volano per l'economia. A San Pietro Mussolino saranno tre giorni di grande festa. La mission di questa manifestazione è promuovere la donna all'interno di qualsiasi sport. Appuntamento il 28, 29 e 30 ottobre con le strade del centro che si apriranno alle prove e con le atlete che si sfideranno con le loro moto. Sabato 29 e domenica 30. Sabato ci saranno dei convegni dove si tratteranno vari sport al femminile, mentre il clou sarà domenica mattina dove le atlete per le vie del centro storico si sfideranno in queste prove motociclistiche. Un momento molto importante ed emozionante perché è la prima volta che viene fatto un campionato di trial urbano tutto al femminile. E devo dire che averlo qui in provincia di Vicenza, a San Pietro Mussolino, ci rende solo che orgogliosi. Non ho mai fatto mistero, anzi ne faccio un orgoglio di essere una motociclista, una grande appassionata. Lo dico anche alle donne, approcciatevi pure a questo sport e non ci sono più grandi pregiudizi. Lo fatelo però con prudenza, fatelo anche formandovi perché andarvi in moto non significa semplicemente mettere su un giubbino di pelle, ma significa anche affrontare delle situazioni anche di imprevisti. Però dico a voi tutte venite anche a vedere questo mondiale di trial. La trial è veramente una disciplina molto particolare, l'unica che non ho mai fatto, è molto impegnativa ma veramente appassionante.